Io amo ogni tipo di verdura, però quando vado al ristorante e sul menu leggo una sezione separata con l'elenco dei piatti vegani, sinceramente non la prendo neanche in considerazione. E scommetto che tanti di voi fanno esattamente la stessa cosa. In realtà lo fanno quasi tutti, tranne i vegani ovviamente, tanto che l'MIT ha deciso di realizzare uno studio scientifico per capire se e quanto fosse attraente l'etichetta vegano riportata di fianco ad un piatto. E così ha scoperto che quando non viene specificato che si tratta di un piatto vegano, le persone tendono a ordinarlo il doppio delle volte rispetto a quando invece è indicato. Per molti infatti l'etichetta vegano accanto ad un piatto è tutt'altro che un incentivo a ordinarlo, e non perché non si reputi che sia buono o perché non lo si possa apprezzare, ma soltanto per un fatto di reputazione e percezione della parola. Per comprenderne il motivo dobbiamo ripercorrere gli ultimi vent'anni, durante i quali la cucina vegana si è diffusa attraverso una serie di azioni di comunicazione e di propaganda portate avanti da gruppi, movimenti e associazioni di attivisti. Purtroppo le modalità con le quali è stato fatto sono risultate spesso aggressive e poco rispettose di chi mostrava di non condividere quello stile di vita. Talvolta il movimento vegano è stato anche contaminato dal fanatismo, risultando estremista e in positivo nei modi. Questo tipo di comunicazione ha prodotto quella cattiva reputazione che inconsapevolmente persiste ancora oggi e che ci porta a rigettarlo istintivamente. È lo stesso identico errore che oggi commettono ad esempio gli estremisti che denunciano la crisi climatica con le medesime modalità aggressive e con il risultato che anche chi condivide le ragioni dell'ambientalismo finisce per provare un senso di antipatia per questi attivisti. Per cui chiudo con un piccolo consiglio di marketing a chef e ristoratori. Se si vuole davvero incentivare il consumo di piatti a base vegetale, allora non bisogna separarli dal cuore del menù, come se fossero riservati a una fetta di clientela che purtroppo la maggior parte della popolazione non ama. Non significa neanche metterli in risalto rispetto agli altri, ma semplicemente offrirli al pari di tutti gli altri piatti nel menù, esattamente per quella che è una scelta libera e soggettiva.